Non c'è pericolo per le persone che ci lavorano e che la frequentano, ma l'amministrazione comunale di Lanciano vuole conoscere le cause dell'improvviso abbassamento di Villa Marciani verso via del Mancino. Sarà una ditta specializzata di guardia grele a svolgere l'indagine geologica nell'antica struttura che ospita la biblioteca comunale intitolata Raffaele Liberatore. A preoccupare sono le crepe sui muri, evidenziate dal personale del settore comunale e dei lavori pubblici. In particolare, spiega l'assessore Paolo Bomba, è stato constatato un abbassamento del piano di posa dell'edificio, provocato verosimilmente da infiltrazioni d'acqua verso la prospicente via del Mancino, dove è l'ingresso di Villa Marciani. Dopo la perizia tecnica, l'amministrazione comunale deciderà quali interventi adottare per la struttura, che al momento rimane aperta e fruibile da studenti e visitatori.